Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video della Vanilla Oggi siamo tornati qui sulla mia casetta, anzi davanti alla mia casetta E come al solito prima di iniziare ragazzi vi invito a lasciare un mi piace Perché davvero ultimamente non vi state superando di più Veramente sto vedendo delle cose astronomiche che a me fanno particolarmente piacere Comunque ho letto un po' i vostri commenti, ho detto oggi li leggo un pochino tutti Ce ne erano davvero tanti negli scorsi episodi qualcosa come una media di 700 a video Però voi continuate a commentare consigliandomi che cosa fare negli episodi successivi Cos'è almeno io so che cosa fare Vi è piaciuto di più l'episodio un pochino meno editato Senza che io tagliassi ogni minimo pezzo in cui magari mi fermavo Quindi adesso la Vanilla cercherò di farla un pochino più incentrata in questo modo Comunque oggi andremo a fare una cosa che mi ha detto un fan e mi ha scritto Marci ma perché non provo ad andare a esplorare un pochino nel land con l'elitra E ho detto porca miseria ma come, come non dargli ragione cavolo Abbiamo l'elitra, mi sono craftato qualche rocket Purtroppo ne ho fatti solo 30 di livello 3 I letti sono tutti di livello 1 E possiamo addirittura andare a volare nel land ragazzi Una figata assurda, incredibile, bellissima Quindi oggi voglio andare lì Mi sono preparato uno shulker box con un paio di cose dentro Con un anvil, con delle leather proprio in caso di necessità eccetera eccetera Erano rivasti solamente due cose di shulker Comunque possiamo fare una cosa del genere Allora, tac E possiamo andare a volare Guardate un po', guardate che bello Possiamo andare nel land In maniera velocissima adesso ragazzi Che figata assurda Torniamo su, che bello Mamma mia mi piace tantissimo Comunque voi continuate a commentare ragazzi su che cosa fare Perché nei prossimi episodi sicuramente andremo ad ammazzare il weeder Non è che andremo ad ammazzare, esponeremo il weeder Perché è molto, molto, molto importante Anzi è importantissimo dato che ci siamo preparati le pozioni E vi è piaciuto molto l'episodio delle pozioni Non pensavo ragazzi sinceramente che vi potesse piacere così tanto Ma per il semplice fatto che non sono bravissimo a spiegare Quindi pensate Oh, knockback 2 sharpness 2 Oh, queste cose qua le prendiamo ragazzi Assolutamente Prendiamo anche il ferro che ci serve Prendiamo anche questi libri E prendiamo anche sto compass Ma porca miseria Ma tutte queste cose qua dove erano finite Ma vedi un po' te Buttiamo via tutto Questo e questo Vai Possiamo andare nel Questa che però devo riprenderla Non perdire ma devo riprenderla Finalmente stiamo per andare nel land Vai E buttiamoci nel land ragazzi Ci siamo Non ho ender per l'effettivamente Adesso le farmiamo subito al volo Tanto abbiamo la spada con looting Ragazzi vi giuro che farò la farm di enderman Anzi ditemi nei commenti se la volete Nei prossimi episodi Che mi piazzo lì e la faccio Mi piazzo lì e la faccio Questo è da ammazzare Dov'è quello che mi voleva Morto Sei tu che mi volevi morto Quante me ne hai date? Me ne hai date ben due Mi piace quando mi dai tante ender per il bomber Mi piace quando mi dai tante ender per il Adesso io quasi quasi Faccio la cosa che fa pepo nella UHC Che per triggerare si piazza in dei blocchi E non ha tutti i torti ragazzi E non ha tutti i torti Solamente che tanto noi non prendiamo danno Quindi c'è sti cazzi proprio Vediamo quanto ce ne da con questo qua Ok ce ne date Bene abbiamo 5 raga 5 bastano e avanzano Dai su va bene così Andiamo nel void E andiamo a cercare la nuova end city Siamo qui nel end city ragazzi Anzi siamo nel void raga Siamo nel void Finali ragazzi Siamo nel void Allora io direi di iniziare a volare E sperare di trovare qualcosa Ricordiamoci che le coordinate sono 630 63 meno 1000 Circa meno 937 Così almeno siamo a posto Facciamo un f2 Così almeno poi possiamo tornare Adesso cosa molto importante Andiamo e vogliamo Andiamo e vogliamo Prendiamo quelli di livello 1 Tac Aspetta Così Non ce l'ho fatta raga Perché non vanno le litra Non è che Ma le land si che vanno Che sta succedendo raga Che sta succedendo Perché non si aprono le litra No raga Wait Wait Io le ho usate le litra Nelle end city Cosa sta succedendo Sto facendo il fail Epocale Che non si possono usare Ma io che sappia Che si possono usare Non mi dite certe cose ragazzi Che io ci credo poi Allora Perché non si aprono le litra Ma da quando raga Da quando Le ho usate per tornare con metano Vi ricordate Ragazzi il problema Mi ha Mi ha shottato Ma a caso raga Avevo mangiato Adesso Sta succedendo qualcosa di strano Nella mia maniera raga Non succede niente Boh Strano 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 Torno Speriamo di farcela in 4 minuti Sì dovrei farcela Vabbè Ci provo Ci provo Allora Sono tornato Io ho inviato un messaggio Anche a Simo Adesso Perché è una spiegazione Più che logica Per questa cosa Perché va un attimino A puttane Se si può dire L'episodio Perché Io volevo appunto Fare questo Ho cercato su internet E' proprio un bug Che si presenta Ad alcune persone Con l'Optifine 11V Cos'è La Insomma Quella Non lo so Adesso qui sono con molti MC Ragazzi Quindi non lo so Sentiamo Mi è arrivato un audio Di Eren Voglio un attimino Sentire cosa dice No Tear mi ha scritto Ho scritto sul gruppo Tear Io sto registrando un video No E le Elytra Nel Void Non si aprono Non si aprono più O meglio Perché comunque Io ho fatto un episodio Un mesetto e mezzo fa Dove andavo a cercare le cose E si aprivano Non si aprono più Ora non so che cosa sia successo Raga Non si aprono Io proverei adesso Io adesso ragazzi Mi metto in creativa Mi metto in creativa Game mod 1 Voglio un attimino provare Se si aprono No raga Non si aprono Le Elytra Guardate Io Lascio Non si aprono Raga Non si aprono Vediamo un attimino Se sono le Elytra Proviamo Proviamo a prendere Delle Elytra Normali Adesso Scusate se mi metto in creativa Però mi sembra una cosa Più che logica Scusatemi No no Non si aprono Raga Non si aprono Non si aprono Guardate Guardate Non si aprono Non si aprono Proprio Non so che cosa sia Non so per quale strano motivo Ma le Elytra Non si aprono Ho paura di aver glicciato La vanilla ragazzi Sì mi sono messo in creativa Scusatemi Lo togliamo subito Siamo come eravamo prima È un problema È un grandissimo problema Ragazzi Questo è un grandissimo problema Perché Voglio tornare a casa Torno a casa Voglio essere nell'overworld Adesso vanno Perché prima le abbiamo usate O che si sono glicciate Nel passaggio Nel void Ma non credo Qui neanche si aprono Raga Qui non si aprono nemmeno Pesa È una situazione Un po' Un po' Difficile Qui si aprono Ragazzi Guardate Vedete che si aprono Qua le Elytra Guardate che si aprono Ma va Pazzesco Raga Pazzesco Proviamo Raga Qui funziona Le Elytra Non funzionano Nel void Le Elytra Non funzionano Nel void È un qualcosa Di assurdo Non si sa il perché Cioè Che cosa vuol dire Che cosa vuol dire Sta cosa Che cosa vuol dire Io vorrei provare A mettere lo snapshot Proprio per vedere Se funzionano Con lo snapshot Cioè per dire Che magari Con lo snapshot Adesso funzionano Oppure cambiare Versione prova Perché stiamo Abbiamo buttato via Un episodio Sicuramente Perché è un bug Devastante Questo Provo a informarmi Ancora meglio Ragazzi ho riavviato Niente Provo 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 ad andare Di nuovo Nel land Vediamo se funziona Adesso Mi sembra una cosa Piuttosto Strana Molto strana Molto strana Davvero molto strana Raga sta glitchando Tutto Sta glitchando Tutto Non capisco Perché Boh Cosa sta succedendo Alla mia vanilla Cosa sta succedendo Alla mia vanilla Raga Ok raga Si sono aperte Adesso Si sono aperte Si sono aperte Le elitra Si sono aperte Le elitra Vediamo Non si aprono più Ok Ora si sono aperte Va a caso Io non voglio Adesso andare nel void Che poi non riesco Boh Ho paura ragazzi Ho davvero paura Che possa succedere qualcosa Di serio Sinceramente Sinceramente Tantissima paura Ecco Me l'ho detto Ora muoio Abbiamo capito che muoio Mi fate salire Cortesemente Grazie Grazie Guarda io adesso Faccio così Vediamo se riesco A beccar diretto Ragazzo Finalmente nel void Ci proviamo Ci proviamo Ragazzi Ci proviamo Cosa devo fare Ok Funzionano Ragazzi Funzionano Chissà che così Era successo Chissà che così Era successo Davvero Però non Ok Ok Finalmente Ragazzi Finalmente Allora Noi non siamo mai andati Dietro di noi Dietro di noi Non siamo mai andati Oddio Sì che siamo andati Però Riproviamoci E vediamo se troviamo Qualcosa di interessante Magari nella zona qua Se io vado dritto da questa parte Ci sarà qualcosa O non sponerà mai niente Nella vita Ok Già qua vedo qualcosa di bello Vedo già qualcosa di bello Qua Dai che un end city La troviamo stavolta Oh Sì Yes Vediamo un posto Se troviamo qualcosa Dai Su 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 Quando ci siamo andati Qui mai andati Assolutamente mai andati Quindi secondo me Un end city La troviamo Secondo me Andiamo su Andiamo su Andiamo su Andiamo su E boh Qua non trovo niente Stiamo volando nel land Ragà Che bello Vediamo un po' Qua Io non credo di essere mai andato Qua sapete Però Non trovo End city Cavolo Mi scoccia sta cosa Mi scoccia Al quanto Mi scoccia Dovrebbe sponarne una Prima o poi Ragà Cioè qua ci sono un botto Di isole giganti Una la troveremo Prima o poi Ne sono sicuro Ne sono sicuro Dai E marci Dai E marci Dai E marci Su Qua non c'è niente Non c'è niente Oh si L'abbiamo trovata una Piccola Ma l'abbiamo trovata È piccola piccola questa È proprio piccola questa qua Guardate che figo Io adesso vado così E ciao ciao Rimango su Che bello Posso scassinare Passando dall'altra La cosa più bella del mondo Raga Ok Ok Wait Wait Cosa c'è Mending the thorns Mending protection Wow What What Che cosa abbiamo trovato Ragazzi Che cosa Beh voi non mi servite Shulker adesso Ora come ora Quindi Ciao ciao Mi butterei Andrei in un'altra N-City Perché comunque Possiamo sfruttare Almeno un paio Oggi Un paio Ne possiamo sfruttare Sperando di trovarle Magari Sperando di trovarle Sicuramente Qui non c'è niente Io mi provererei A spostare da questa parte Andiamo un po' Se magari da questa parte Troviamo qualche cosa Eh Troviamo qualche cosa Vediamo se quello Da 3 funziona di più Eh ragazzi Funziona molto di più Quello da 3 Cioè non mi potete dire Che sono uguali Dai su Su Ho detto dei commenti Che dicevano Marcia perché così Quelli da 3 Di Gunpowder Che sono la stessa cosa Non sono assolutamente La stessa cosa Ve ne siete accorti Tipo adesso E Qui non vedo niente Mmm Qua si fermano proprio Le isole Proviamo ad andare Da sta parte Sì Guarda che qua Si formano altre isole Guardali qua Sì Yes Però un N-City Ancora Non l'abbiamo trovata Decente Abbiamo trovato quella roba lì Che secondo me Vale proprio zero Quella roba lì È proprio Proprio non vale niente Solo che dobbiamo stare attenti Perché dobbiamo anche Tornare a casa Dopo Eh 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 Qua non c'è qualcosa Niente Non mi vuoi dare neanche Un N-City No ma dimmelo Cioè strano che Spoglino così poco Però effettivamente Ci stavo pensando adesso Ci stavo pensando Proprio ora 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 Raga Ne abbiamo trovata Una Bella Grande E qua No Questa l'abbiamo già esplorata Invece L'abbiamo già esplorata L'abbiamo già esplorata L'abbiamo già esplorata Questa Eh Sì Sì È già esplorata Questa Che coordinate siamo Siamo a 1500 Meno 800 Mi sembra strano eh Però Non vedendo il coso di drago Vuol dire che Eh Sì Non ci sono le litra Quindi l'abbiamo presa Ma prendiamo anche Testa roba qua Che ci possono sempre servire E buttiamoci Ok Andiamo da questa parte Stavolta Trovata Trovata Questo che l'abbiamo già visto Secondo voi Secondo me no Però Ok vediamo un po' Scendiamo Scendiamo Eh sì che l'abbiamo trovata Sì che l'abbiamo già preso Anche questa qua ragazzi Tutte N-City Già viste Ma dove devo andare ragazzi Per trovarne una Che non ho ancora visto Questa è una cosa Che pesa Quanto Ragazzi Qua ce n'è una Ma Ma Non so Se l'abbiamo già vista Vediamo un po' Torniamo su Andiamo su Andiamo su E torniamo qua Ok Salviamoci Salviamo E ciao eh Ciao proprio te Ciao proprio te Eh cos'è che vuoi Fammi capire Fammi capire Abbiamo già visto anche questa Raga Abbiamo già visto anche questa Ma questa è quella di prima Ma questa è quella di prima Ma è quella di prima Ma allora Ragazzi ne ho trovata una Che ancora non ho esplorato Finalmente Per questo episodio Abbiamo qualcosa Di eliteroso Da trovare Che bello Ok qua c'è un enderman Che è caduto Grande enderman Che si è caduto È caduto del tutto È morto È morto Eh 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 No 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 Mi ha preso Levitation Bomber Ma Bomber Eh no Deve aprirsi Deve aprirsi Deve aprirsi Oh l'ho ucciso L'ho ucciso Oh si yes Yes Dammi sto coso Che mi sarebbe nato Shulker Box E ne ho sentito un altro Ne ho sentito un altro Che secondo me Arriva da sotto Oh è vero Che qua ce n'è uno Weh Bomber Weh Bomber Allora Grande Grande Bomberissimo Vediamo che c'è Curso of Vanishing Ragazzi Occhio a questo Che dovrebbe farci morire In teoria Non mi ricordo Se è Curso of Vanishing O l'altro Curso of Binding C'è uno dei due Che è molto molto figo Allora prendiamo tutto Sto ferro Che Raga Oh Il ferro è importante Magari prendiamo anche Le litra Sapete com'è C'è Sai com'è Mamma mia Prendiamo anche l'alambicco Che cosa che ci dà l'alambicco Ci dà due possono Instant health Buono Molto buono E andiamo a prenderci anche La cosa del drago Però Cosa ne dite Magari Yes Abbiamo un'altra cosa Di drago Guardate come spacca veloce Che bello Comunque adesso Ci tocca andare Io partirei Dalla sopra Raga Quindi Andrei Cosa del genere E andrei su Assolutamente su Assolutamente su E vediamo se riusciamo a salvarci così Direi che ci siamo salvati Molto molto bene Molto molto bene Qua non so se ci sono delle ceste Effettivamente Vediamo Questo qua deve morire Occhio che siamo senza vita Marci Occhio che siamo senza vita Marci Non devi giocartela mai Così Te la sta giocando malissimo Marci Ok Mori Ok 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 Va bene Perfetto Qua abbiamo Se abbiamo fatto Ok E tu bomber Cosa mi racconti Dai Apriti Così ti posso Uccidere Grazie mille Ok Qua non Vedo assolutamente Niente Ok Lì sopra Non c'è niente Ho perso Ho perso Il tuo vantaggio Che avevo Ok No 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 Vabbè Ok Raga Qua che cosa c'è Che qua c'era una cesta Lo sapete che c'era una cesta Vero Sì Anch'io lo so Anch'io Anch'io voglio ucciderti un pochino Non è che mi faresti per favore Chiudo spazio Ciao Anche tu Grande Grazie Grazie mille Allora buttiamo giù lo shulker box Nero che abbiamo E ci buttiamo dentro le spade E queste qui che abbiamo preso Questa fire aspect Dun breaking 3 Non è il top Però insomma Non è neanche malaccio Raga Non è neanche malaccio Riprendiamoci il nostro shulker box E Buono così raga Buono così Siamo riusciti a prendere qualcosa di davvero Interessante Adesso vorrei un attimino capire Carpire anzi Vorrei capire insomma Dove devo andare Ok Ho fatto una cazzata Ok Dov'è quella Devo capire Ah è questa qua Dovrebbe essere questa qua credo Torniamo su Mangiamo Mangiamo Devo capire un attimino qual è quella piena Noi siamo stati qui Qua non siamo stati Ecco infatti Ok Vediamo che cosa c'è qua sopra Vediamo un po' se queste chest Ci danno qualcosa di buono E attenzione Curse of Binding Sui leggings Goldwars Armor Mica male Questo è buono ragazzi Silk touch Efficienza 4 È quasi come il nostro secondo coso Silk touch Anzi è molto meglio questo week Che abbiamo trovato Perfetto Molto buono Molto molto buono Sono contentissimo Sono contentissimo Vabbè Possiamo uscire da qua Che ne dite Mi fate uscire Mi fate uscire Grazie Grazie mille Grazie mille Davvero Ok Io direi che qua Possiamo tornare giù E non dovrebbe esserci nient'altro Ragazzi Questa cosa qui È finita qua Ragazzi L'episodio è durato davvero tanto Anche perché ci siamo dovuti Mettere in creativa Per sistemare le cose Ho dovuto cercare di capire Che cos'era il problema E niente Spero che comunque il video Vi sia piaciuto Vi dovete lasciare un like E un commento E se non siete ancora iscritti A iscrivervi al canale La marcia è tutto Bello Autore dei sottotiti Hei Grazie a tutti.